Ciao ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Allora, oggi voglio girarvi un video e voglio parlare con voi di una palettina, una palette che mi è stata appunto regalata amorevolmente dalla mia cara sorellina. Diciamo che questa cosa è cascata proprio a fagiolo, perché io tempo fa tramite un sito internet appunto avevo visto questa palettina e ne ero rimasta molto colpita, diciamo colpita positivamente, almeno per l'aspetto e per quello che ho potuto leggere in giro e vedere nei vari canali YouTube. Ho visto che molte ragazze hanno sponsorizzato questa palette, si sono trovate alcune bene, alcune meno. Io sinceramente, visto che l'ho avuto in regalo, la voglio oggi testare con voi, quindi la voglio provare facendo un make-up. Voglio realizzare appunto un make-up abbastanza strong, anche perché i colori di questa palettina sono molto molto pigmentati, quindi colorano tantissimo. E la palette in questione è questa qui, della Revolution. Cioè, io trovo che questa palette sia bellissima, non tanto per il suo pack, perché insomma il pack è molto molto classico, quindi non ha, come potete vedere, non ha cose particolari, è un pack classico, però i colori al suo interno sono veramente bellissimi. Ci sono di colori shimmer e colori matte. E io trovo che questa sia una palettina molto molto bella. Se volete acquistare questa palette, che mi sembra che costi su 6-7 euro, vi consiglio di andare sul sito della Pink Panda. Non so se ne avete mai sentito parlare, se lo avete già visto. Comunque, se siete curiosi di vedere cosa appunto vende questo sito, vi lascio il link giù nel box informazioni. Io ve lo consiglio perché ci sono tantissimi prodotti appunto della Cosmesi che costano pochissimo. Ci sono varie marche, quindi potete trovare varie marche e in questo caso potrete trovare anche la palettina nella Revolution. Una cosa carina che ha questo sito è che ora nel mese di dicembre ha fatto il calendario dell'avvento. Non so se sapete che cos'è, quello che ogni giorno dovete aprire una casellina e trovate al di sotto una sorpresa. In questo caso la Pink Panda ne ha fatti di alcuni diversi e in ogni casellina che insomma andrete a aprire il giorno di dicembre troverete appunto un trucco, quindi un make-up dal pennello, dal rossetto, dalla matita, dalla palettina in se stessa, dal fondotino. Insomma ci sono praticamente tutti i trucchi dentro questo calendario dell'avvento fino appunto al giorno di Natale. Io trovo che sia un'idea fantastica, infatti mia sorella ne ha ordinata una, gli è arrivata e non ha voluto neanche sapere cosa c'era al suo interno anche perché dietro c'è la fotografia di dimostrazione però lei non l'ha voluto sapere. Quindi ragazzi se volete questo calendario dell'avvento mi sembra che costa sulle 34 euro se non erro. Io ve lo consiglio, comunque io come vi ho detto vi lascio giù nel box informazioni il sito del negozio dove poterlo acquistare. Ovviamente io non è che sto facendo pubblicità a pagamento quindi nessuno vi paga per dirvi questa cosa, è solamente che ho trovato questo sito molto molto carino con tantissimi prodotti validi a poco prezzo. Quindi se state cercando dei prodotti a poco prezzo ve lo consiglio e straconsiglio. Quindi ragazzi intanto partiamo con il make up e vediamo cosa viene fuori. Allora facciamo una cosa abbastanza strong, quindi facciamo un occhio molto scuro e molto accentuato, quindi per una serata molto particolare e sexy. Vediamo cosa viene fuori. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti.